In questo anno 2018 affrontiamo una tematica che non abbiamo mai affrontato all'interno di formazione web, ovvero prefabbricazione leggera. Nel sistema costruttivo tradizionale noi abbiamo affrontato la tematica della prefabbricazione. Una delle ultime prove sperimentali che abbiamo fatto presso l'Università degli Studi della Basilicata è una prova che è servita a testare il comportamento sismico. Il vantaggio primario è quello dell'autoportanza e dell'eliminazione della casseratura. Queste travi vediamo qui a sinistra. Quindi fino a che luce possono arrivare le travi? Sì, in realtà non abbiamo limiti e non ci imponiamo limiti. L'unico limite che abbiamo è il trasporto e la sezione che... Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!